ancora sangue sulle nostre strade un drammatico incidente si è verificato ad affragola nella provincia di napoli le vittime sono claudio de rosa 17 anni ferdinando iacquino 22 anni un loro amico che si trovava insieme a loro classe 2003 è invece ricoverato in gravi condizioni in ospedale lo schianto contro un muro secondo una prima ricostruzione l'auto una peugeot 205 ha sbandato improvvisamente si è schiantata contro un muro l'incidente si è verificato in via san marco un terzo giovane a bordo dell'auto è stato estratto dalle lamieri in gravi condizioni e sarebbe in pericolo di vita